Poche emozioni e un punto che probabilmente non accontenta nessuno. Finisce 0-0 la sfida del San Francesco tra la Nocerin e il Bisceglie. I nerazzuri di Cazzarò, pur mettendoci tanta buona volontà, non riescono a tornare a casa con l'intera posta in palio e restano in piena zona play-out. Ritmi più elevati nella prima frazione con il Bisceglie che prova a rendersi pericoloso con il colpo di testa di Coria all'ottavo su assist di Farinola. Venditti blocca senza problemi. Al dodicesimo risponde la Nocerina con il tiro da posizione centrale di Talamo. Coria si immola e salva il risultato. Un minuto dopo azione personale di Lorusso che si invola e calcia a botta sicura. Venditti si rifugia in corner. Al ventiquattresimo chance per i padroni di casa con Talamo che approfitta di una sbavatura di coletti e conclude a rete. Martorell risponde presente. Si va a riposo a reti inviolate. Ritmi più bassi nella ripresa. Al tredicesimo è Ferrante per il Bisceglie a provare a suonare la carica con un diagonale che termina di poco a lato. Al ventitreesimo è il turno di Coria che calcia con il mancino dal limite ma non inquadra lo specchio della porta. Al ventiseiesimo ghiotta chance per la Nocerina fallita da Menichino che tutto solo in area di rigore trova l'opposizione di Martorell e poi manda clamorosamente a lato. Nel finale è predominio dei Molossi che sfiorano il vantaggio due volte con il neo entrato da Macco che non riesce a trovare la mira giusta. Finisce 0-0 e Bisceglie che torna a casa comunque con un punto prezioso in vista del match di mercoledì al Ventura contro il Casarano.